Bilancia. Dopo aver recuperato forza fisica, avrai la possibilità di emergere. Quindi adesso sei ancora in questa condizione particolare, devi ritemprare il tuo fisico, organizzare qualcosa di bello per il futuro, sei stato vittima di momenti di tensione, di ripensamenti, forse ancora l'amore va gestito con chiarizzo. Se avevi litigato con un socio, un collaboratore, durante la primavera e hai un'attività improprio, adesso emergono nuove persone che possono aiutarti a recuperare quello che avevi perduto. Anzi, puoi riguadagnare anche una buona capacità di azione entro novembre, novità in amore.